Il Comune di Genova è molto interessato a stimolare la fruizione di questi strumenti da parte dei cittadini. Sappiamo che il patrimonio pubblico, ad eccezione degli immobili di edilizia residenziale, non può beneficiarne. Sugli immobili di edilizia residenziale, attraverso ARTE, stiamo lanciando dei progetti di partenariato molto importanti per l'efficientamento energetico. Per quanto riguarda il patrimonio privato, l'obiettivo è quello di facilitare il più possibile il processo di acquisizione di questi strumenti. Come lo facciamo? Apriremo due sportelli, uno generalista ai magazzini dell'abbondanza, che darà informazioni a tutti coloro che sono interessati. Spesso notiamo che c'è una barriera all'accesso perché c'è una difficoltà nel capire questi strumenti. Quindi noi ci proponiamo di spiegarle ai cittadini, ma non solo. Per quanto riguarda il piano di rilancio del centro storico, di riqualificazione che abbiamo lanciato, l'obiettivo è quello di andare a bussare porta per porta, casa per casa, a tutti i proprietari per incoraggiarli a fruire di questi strumenti. Non escludiamo la possibilità che il comune, laddove gli incentivi non consentano di neutralizzare completamente i costi, possa farsi partecipe di una quota economica per sterilizzare in tutto e in parte l'onere a carico del privato. Dopodiché avremo invece uno sportello specialistico per le imprese, per i professionisti, per semplificare il più possibile il disbrigo della parte burocratica. Dobbiamo assolutamente evitare che le imprese, i professionisti si perdano negli uffici comunali. È ovvio che ci sono più uffici che devono esprimere pareri, quindi ci sarà un unico front office dove la pratica viene consegnata e chiaramente viene autorizzata, così semplificando e facilitando il più possibile il percorso. Lo sportello presso gli uffici dell'urbanistica di fatto è già operativo, dalla scorsa settimana dobbiamo adesso impegnarci per divulgarne la comunicazione. L'altro sportello lo stiamo allestendo e stiamo formando le persone, io penso che intorno alla metà di dicembre possiamo partire. Bonus, super bonus, non sono fondi pubblici, nel senso che c'è una copertura da parte dello Stato, quindi sono fondi che poi operano attraverso lo strumento dell'accessione del credito. Come dicevo sono fondi di cui non può fruire il comune, che non è soggetto passivo dell'imposta, quindi di per sé è un ammontare indefinito, chiaramente è una grande opportunità e noi vogliamo fare in modo che venga sfruttato il più possibile.